Amici Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di mercoledì che vedrà una perturbazione comunque debole transitare sul nord Italia. Lo vediamo da queste macchioline azzure che passano sul nord. Controlliamo però intanto la nuvolosità attesa sul nostro paese. Si tratta di un sistema nuvoloso atlantico, lo vediamo proprio arrivare da ovest e transitare sulle regioni settentrionali, diciamo non particolarmente intenso, interessa principalmente il nord a sfiora l'Italia centrale. Come precipitazioni torna in effetti qualche goccia di pioggia in Liguria, sul Piemonte orientale, in Lombardia, Basso Veneto e Emilia-Romagna coinvolta in parte la Toscana, comunque perturbazione abbastanza veloce. E quindi in definitiva ci attende un mercoledì al centro-sud ancora bello, anche se con qualche nuvola in più si tratta della coda di questa perturbazione sul versante tirenico e in Toscana la possibilità come vi dicevo anche di qualche pioggerella. Però il nord sarà la zona con nuvolestà più estese e compatta, anche delle piogge, ma comunque già dal pomeriggio è atteso un graduale miglioramento all'estremo nord-ovest e poi a fine giornata il tutto si sposta verso est. Il nord però avrà sempre temperature un po' più contenute, al centro-sud invece clima che resta davvero mite. Per tutta l'Italia e comunque sulle vostre località fino arrivare anche al Natale consultate l'app di Trevi Meteo.